Sì, è proprio su una bella busta, ciao, gustino, ciao a posto, io conosco qua che non sono entrati, la gente con i suoi video, dà lezioni, corsi e racconta situazioni di vita quando c'è un bambino, ecco è molto severo, no è a posto, è uno che è attento, guarda l'acqua centimetro per centimetro, Gustino buongiorno, ciao carissimo, grazie grande Frenkie, numero uno, grazie, grazie mille, è un piacere averti qui con noi stamattina, ne approfitterei per farti spiegare alcune cose al pubblico, sai, è una giornata calda, siamo vicinissimi a Ferragosto, bisogna stare attenti, è vero, bisogna essere questa ciumulsone che ci spella vivi, bisogna stare attenti, mettiamo la crema ragazzi, guarda la signora, è già, ho preventato l'ondata marra, è 14.30, è già posizionata, è vero, è vero, ragazzi state attenti, mi raccomando, non mi entrate nella piscina onde se non avete la capacità di stare 7-8 minuti nelle onde, signora non mi vada con la bandana, lei con la bandana, non mi vada nelle onde, io devo salvarla di subito, perché appena la vedo partire mi tocca buttarmi, in anticipo, lei va anticipata, anzi se c'è qualche medico, questa è una ragazza che va subito, gli va praticato subito il massaggio cardiaco, prima, raccoliamo prima del male, prima del male, sì, sì, prevenire è meglio che curare, la saggezza è quasi, il nostro capo guagnino, il mattino viene fuori, peraltro so che per Ferragosto che si sta avvicinando, stai preparando qualcosa di eccezionale, l'evento eccezionale è che innanzitutto è il mio compleanno, e quindi si festeggia non una volta ma due volte, esatto, due volte, anzi si festeggia tre volte, perché io sono come nel medioevo, il mio compleanno vale per tre giorni, c'è il banchetto, a casa mia si fa il maiale ad agosto, si è leggero soprattutto, si parte con la colazione a base di maiale, praticamente viene spalmato, viene spalmato proprio il, come si chiama, quella roba genuina, non è l'orio, è il grasso di maiale, è quel caldo che c'è, non è importante, il maiale va sempre onorato, va sempre bene, certo, al primo mattina, verso le 11, due ciccioli, l'azione con i ciccioli, dovrebbe essere il titolo dei figli, l'azione con i ciccioli, poi a questo giorno taglia a te, le strosse a previ, a ravioli, con la racù di salsiccia, vai, tutta leggerissima, una grigliatina, dove si finisce con il fegato di maiale, insomma, una cipolla, c'è, non volete venire a mangiare a casa di Vizio, però se non c'è una cena, perché invece durante il giorno sento un'acqua fana, ma è certo, io sono sempre un'acqua fana, io quando non mi vedete sono o lo strizzacul, o lo extremi che devo fare manutenzione, perché ragazzi, eh? Come le gira, che senso? La signora, è divertentissima, lei signora è la famiglia nata, la voglio fare di sei, grande, grande, la signora la voglio a oggi, faccio la lezione di bagnino, sai che io ho questo corso? Eh non so, ma se io sono formato ogni giorno, ogni giorno, all'estremo, all'estremo io faccio questa lezione di bagnino, oggi faccio la lezione sull'ombrellone, se la signora mi viene io, io le preparo tutta la zona, le faccio fare l'apertura e la chiusura dell'ombrellone, perché lei ha la postura proprio da bagnino, però bagnino sudamericana, devo essere sincero, tecnica diversa, tecnica diversa, sì, loro ballano con la lambanda, loro aprono, loro aprono l'ombrellone con la lambanda, aprono così, straordinaria, guarda, va bene, la signora, secondo me, verrà sicuramente a leggere, assolutamente, adesso, Agustino, per agosto, dai, davvero anticipazioni, ci sarà una roba assieme, adesso, adesso si è parlato con la direzione, sembra che si faccia un ballo straordinario, un ballo che quest'anno sta andando fortissimo, che è il Zogas a me, mi suona un po' familiare, no, non è, il Zogas a me vuol dire gioca con me, è preso dalla musica di Claudio Cecchietto, mio carissimo, non è che abbiamo un amicizio, ma immagino, e lui mi ha detto, fai il testo nuovo, e io ho fatto il testo nuovo, lo andremo a spiegare quel giorno stesso, anzi, se venite poi all'extreme, e noi facciamo, facciamo un'anticipazione del Zogas a me, non serve, non serve, non serve, va bene, allora, ringraziamo con un bel saluto al nostro Agustino, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, salutate Agustino, grazie, saluto la signora, con gli occhiali, venga la ragazza di Agustino, la aspetto, a lei, a lei, non si volti, che parlo con lei, fanno finta delle volte, no, se siete imbarazzate, se siete imbarazzate, dai, vi aspetto, eh, dai, ciao, buona giornata, fai chi, ciao Agustino, lo sapete una cosa? Sì, sono il numero uno, grazie, io non capisco perché la Rai ancora non ti abbia preso, stava telefonando, forse è il telefono staccato, eh, non lo so, comunque, adesso lo attacco subito, poi ti dico, dai, mi raccomando, lo sai che qui c'è l'abbonato a un posto in prima fila, praticamente come la Rai, poi però che piano, eh, certo, ok, ciao Agustino, un saluto al nostro capo, ciao, bagnino, vi do appuntamento alle 12.20, lì all'extreme, per le lezioni di bagninaggio, che sono importantissime,